È tempo di vacanze, molti scelgono mete esotiche, allora la ASDA si organizza e presenta un piano di prevenzione con la medicina del viaggiatore. Vaccinazioni, informazioni utili e farmaci da portare con sé in caso di viaggi per vacanza o lavoro verso Africa, Asia o America del Sud. L'azienda sanitaria guidata dal manager Ferdinando Romano lancia una campagna di prevenzione perché in questi luoghi possono essere pericolose infezioni da insetti, malaria, encefalite, febbre gialla. Tramite il Dipartimento igiene, epidemiologia e sanità pubblica che fa capo al dottore Enrico Gianzante, l'azienda sanitaria punta a dare informazioni utili ma anche a proporre il vaccino dove è necessario. Per questo sono stati attivati degli ambulatori della medicina del viaggiatore specifici che si trovano in ospedale all'edificio 12 all'Aquila, ad Avezzano nel distritto di via Montevelino, a Sulmona in via Gorizia. Per vaccinarsi occorre contattare la ASDA prima della partenza. Non è necessaria la prescrizione, l'unico costo a carica è quello del vaccino. Ci sono vaccini particolarmente consigliati per febbre gialle, epatite antitetaniche, antincefalite e profilassi per la malaria. In base al luogo, gli operatori ASDA consigliano la profilassi da eseguire. Le richieste alla ASDA dopo la pandemia sono aumentate a dismisura perché si è tornati a viaggiare verso l'estero.